Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in figura E' consentito il sorpasso in vicinanza o in corrispondenza dei dosi E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in figura E' consentito il sorpasso in sorpasso in vicinanza o in corrispondenza o in corrispondenza di dosi E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in figura E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in corrispondenza E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in figura E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in figura E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in corrispondenza E' una strada a senso unico di circolazione con la segnalattica indicata in corrispondenza la striscia di messo in figura consente il sorbasso senza superare la burkina non vissiano motivi che lo viettino la striscia di messo in figura consente il sorbasso senza superare la burkina non vissiano motivi che lo viettino la striscia di bianca continua di messo in figura divida la strada in due caragate ognuno dubio senso la striscia di bianca continua di messo in figura divida la strada in due caragate ognuno dubio senso la strada in figura divida la strada in due caragate ognuno dubio senso la strada in figura divida la strada in due caragate ognuno dubio senso la strada in un senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva in una strada senza unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorbassare anche in curva si può sorbassare anche in curva, anche in curva, anche in dosi perché ci sono unico, ok? i segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marcibiede ora, consentono la fermata i segni alla moda gialli e neri o agarchi in figura dipinti sul bordo del marcibiede ora, consentono i segni alla fermata i segni alla gara, ma non non è vero, ma non è vero, la striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia nella strada senso unico, la striscia bianca in modo discontinuo e discontinuo in figura non può consente l'inversione di marcia nella strada senso unico, secondo voi? l'inversione di marcia continua in figura, si può trovare ai bordi della strada per segnalare i margini ma non è vero, non è vero che attraverso il marcibiede ora non è vero, che sembra più Ok? La segnalità in figura indica lo spazio per la firmata di autobus e filobus servizi pubblico di linea La segnalità in figura indica lo spazio per la firmata di autobus e filobus servizi pubblico di linea In una strada a dubbio senso di circolazione con la segnalità in figura si può effettuare un sorpasso anche superando la striscia di mezzo In una strada a dubbio senso di circolazione con la segnalità indicata si può effettuare un sorpasso In una strada a dubbio senso di circolazione con la segnalità di autobus In una strada a dubbio senso di circolazione con la segnalità di autobus In una strada a dubbio senso di circolazione con la segnalità di autobus e filobus capirò? la striscia bianca e discontinua sulla intersezione in figura sono strisce di guide, strisce di guide vero è? i segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo della mercebiede indicano che su quale lato della strada non è possibile sostare la madre ancora barcheggia, vero è? perché vietato e vieta di barcheggio e regolamentare nella zona destinata alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea trovare sulla pavimentazione la scritta bus di colore giallo, vero è? regolamentare nella zona destinata alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea trovare in un calcolo naso la pavimentazione la scritta bus di colore giallo ma non è un'altra cosa, ma non è un'altra cosa, ma non è un'altra cosa, vero è? in presenza dell'isola di traffic rappresentata in figura il veicolo C deve svoltare a destra, il veicolo C deve svoltare a destra, vero è? perché? una differenza di linea di continuo, quindi non è un'altra cosa, ma non è un'altra cosa, addia di continuo la scritta è una cosa che per la grado di tipo di lungo ti è un'altra cosa, ma non è un'altra cosa ? ma non è un'altra cosa, non è una cosa che ci si chiama a destra, non è iniziato a mangiare la pistola riuscala, perché ci si arriva bene, fare bene? è molto meglio E' la velocità per spiegare il quanto riguarda il conflitto La spiegazione è la sua quota di rueda Ma non è solo quella che ha fatto, ma non può riuscire la sua quota di rueda La sua quota di rueda è fissile La sua quota di rueda è più alta La sua quota di rueda è differente Per la sua quota di rueda è incrociata Però questo è un'altra quota di rueda Per il rueda di rueda è una casa di rueda la velocità consigliata vero è la striscia bianca laterale discontinua segnala l'inizio di una panchina, la striscia bianca alla moda laterale o gesco discontinua, discontinua segnala l'inizio di una panchina secondo voi? falso è perché alla moda gesco will get ma hanes mit discontinua deve essere continua va bene segnala una panchina la segnaletica in figura non consente ai veicoli di transitare sopra falso è perché un attraversamento bedonale non si può breccheggiare ma si può transitare la striscia bianca laterale discontinua in figura divide la caraggiata da una corsia di accelerazione la corsia di accelerazione aveva fatto il caso di vero è perché la corsia di accelerazione mesce anche in una strada il senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione del senso di marcia senso unico la circolazione si può fare l'inversione senza dimarcia, secondo voi una cazzata strada senso unico la corsia di destra rappresentata in figura è riservata ai veicoli lenti, falso la corsia destra rappresentata in figura riservata ai veicoli lenti falso non c'è una corsia riservata a veicoli lenti la corsia destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra no, falso è perché la corsia di me è rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire direttamente a falso perché freccia che si può fare se non sono toscali o bohama quando la corsia di me è rappresentata quindi la corsia di me è rappresentata la corsia di me è rappresentata e la corsia di me è rappresentata e la corsia di me è rappresentata rispetto al veicolo che precede nel senso della freccia la striscia continua e centrale in figura si trova di norma su strada a senso unico di circolazione strada a senso unico di circolazione la striscia continua ma è falsa il dispositivo in figura un dose artificiale vero e rispetto al veicolo che precede nel senso della freccia la striscia discontinua in figura si trova subito prima di un incrocio vero allora prima di un incrocio dopo un incrocio non ho rispetto al veicolo che precede nel senso della freccia la striscia discontinua no in figura si trova subito prima di una no si trova dopo non subito il veicolo è presentato in figura post-voltare sinistra rimanendo nella stessa corsella post-voltare sinistra rimanendo nella stessa corsella a chiara che è in sasso e non guarda la notizia fino a saare di Qimabadan saare di Qimabadan cosa si viene? se viene reality si anche la prima cosa next o alla semplich ris Charlie s'il commenta che qualche specchio tokina in figura consente vice Wh inqu Cathy si La corsia di mezzo è rappresentata in figura e consente al condicente solo per seguire diritto. La corsia di mezzo... Oh! Corsia di mezzo! Ok... Come si dice? 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 Ok.. Come si dice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu